La terribile caduta di Lindsey Vonn dell'americana nel giorno di apertura dei mondiali di Schladming in Austria. La statunitense vola via dopo un salto, eccolo il momento, durante il Super G, la cui partenza è stata a lungo rinviata, le è ceduto il ginocchio, il ginocchio destro, e addirittura non soltanto è un brutto infortunio quello che è successo, ma si parla di carriera a rischio per la campionessa americana, è chiaro che nelle prossime ore sapremo essere più precisi, però è davvero stata una bruttissima caduta, dunque inizia nel peggiore dei modi questo mondiale di Schi. L'oro è andata alla Mazze, ottimo quarto posto per l'esordiente azzurra Sofia Goggia, ma la notizia è questa, è la terribile caduta di Lindsey Vonn che rivediamo anche da qui. Il ginocchio destro praticamente ha ceduto e bisogna capire bene l'interessamento dei legamenti.